Da arteria groviera a nascondiglio perfetto per discariche abusive. È sotto il viadotto della E45, che si trova in località Giuncheto, comune di Sansepolcro, che gli agenti della forestale Biturgenzi hanno trovato un vero e proprio cimitero di auto e non solo. Una discarica personale in un'area demaniale gestita da Anas SPA, lunga circa 500 metri per una superficie complessiva di 3.200 metri quadrati, sottostante il viadotto della E45 denominato Zonchi. Qui nel tempo è stata abbandonata una notevole quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non. Tra questi, i più evidenti, autoveicoli e motoveicoli privi di targa, batterie per auto usate, pneumatici usurati, grosse quantità di materiali metallici, legnosi e plastici, catrame da triturazione stradale, elettrodomestici, bombole del gas, rifiuti edilizie e sanitari vari e ancora cavi elettrici, tubi in plastica, monitor per personal computer, apparecchiature elettriche ed elettroniche di vario genere, gabbie per animali da cortile, cartellonistica fissa e mobile danneggiata. L'elenco potrebbe essere ben più lungo, ma non è stato possibile quantificare con precisione la quantità dei rifiuti presenti, comunque molto consistente, perché risultano distribuiti nel suolo in maniera disomogenea. All'interno dell'area sono stati rinvenuti anche altri materiali, che non sono ovviamente rifiuti e che vengono ancora utilizzati, come cartelloni stradali per cantieri mobili, barriere in acciaio, delimitatori in plastica, sacchi di conglomerato bituminoso e alcuni mezzi agricoli appartenenti a privati cittadini. I due responsabili dell'area sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Arezzo.